Partiremo con la lettura integrale del Nuovo Testamento, che sarà una kermesse no stop di più di 24 ore affidata a 255 lettori che appartengono alla vita di tutti i giorni, alla vita sociale, alla sfera sociale, dalle autorità alla semplice persona. Una vera e propria maratona della fede, oltre 30 ore di no stop, quasi 300 persone immobilitate a leggere a turno il Nuovo Testamento nella Chiesa di San Michele. Prenderà così avvio sabato 2 marzo il Festival dello Spirito. Sono molto contenta che la città di Arezzo ospiti questo lungo evento che analizza tanti aspetti della spiritualità, dalla parola all'arte, da lettura fino alla musica, passando con un coinvolgimento molto pieno delle scuole della città che credo sia il segno di un cammino forte rispetto ad alcune sensibilità. Un ciclo di eventi per valorizzare e condividere testimonianze di spiritualità, vocazione e fede. C'è tanta solitudine, è vero, fra i giovani, fra gli anziani, e penso che questa pandemia ha accentuato questo problema. Allora è importante che riusciamo a uscire e a tirare fuori anche di casa chi è più restio, per creare dei momenti di incontro come anche questo festival. Tra gli appuntamenti più attesi, quello di sabato 9 marzo, quando alle 17, la città verrà invasa da quasi 500 coristi per un grande concerto nella cattedrale di Arezzo. Il Festival dello Spirito vuole essere un'occasione per una meditazione sul messaggio della parola, declinata in vari aspetti, in tutte le sue manifestazioni, e anche all'ascolto della musica liturgica, attraverso un concerto che si sarà il 9 marzo in cattedrale con il maestro Fisina. La partecipazione, la stragrande maggioranza dei cori della parrocchia, è prevista una partecipazione di oltre 450 coristi che si esibiranno in questo concerto, che credo sarà un evento unico nel suo genere.